Cari amici, ben trovati a un nuovo appuntamento con la Chiesa nella città. Come ormai avrete visto, è cominciata la Quaresima e con essa anche le tante iniziative previste sul territorio di Ocesano in occasione di questo che liturgicamente viene definito Tempoforte. Il Cardinal Tetamanzi, che martedì ha cominciato, tra l'altro anche le catechesi quaresimali, trasmesse da Telenova e da Radio Marconi, ha inaugurato il periodo di preparazione alla Pasqua con il rito delle ceneri in Duomo. Vediamo il servizio. Vengono imposte per prima lui all'arcivescovo, poi ai sacerdoti e dalle loro mani ai tanti fedeli in Duomo. È la prima domenica della Quaresima Ambrosiana che si apre con il suggestivo rito appunto dell'imposizione delle ceneri a indicare il tempo di penitenza che si concluderà con la Pasqua di Ressurrezione del Signore. Carissimo, il Signore ci dà la grazia di iniziare il nostro cammino quaresimale. E l'arcivescovo allora richiama in quest'anno Paolino la scelta di camminare con Paolo sulla Via della Croce per un tempo che nota non è solo una ricorrenza di calendario, ma celebrazione viva dei misteri di Cristo tentato nel deserto. E le parole del Cardinale fanno così memoria di Sant'Ambrogio, che diceva che tre sono le cose utili alla salvezza degli uomini, il sacramento, ossia il battesimo, il deserto e il digiuno. Digiuno concreto, ma anche simbolo di uno stile di vita sobrio e solidale, come chiede Benedetto XVI. E il pensiero dell'arcivescovo va anche al Fondo Famiglia Lavoro, dallo stesso istituito. Fondo per sostenere economicamente, sottolinea, ma anche per indicare un modo di vivere il presente. Uno stile che deve essere caratterizzato dalla solidarietà, e perché la solidarietà sia concreta e operosa, questo stile deve essere anche uno stile di sobrietà. E alla fine un annuncio atteso, la beatificazione di Don Carlo Gnocchi. Il Santo Padre Benedetto XVI ha stabilito che il venerabile servo di Dio, Don Carlo Gnocchi, compiutosi il processo canonico, venga proclamato beato qui a Milano, il prossimo 25 ottobre, nel giorno anniversario della sua nascita. E la prima Domenica di Quaresima, come vuole un'antichissima tradizione, che ha lasciato traccia evidente di sé anche nelle letture dei Vangeli delle Domeniche di Quaresima in rito ambrosiano, prevede la celebrazione del rito di elezione dei catecumeni che riceveranno i sacramenti dell'iniziazione cristiana nella notte di Pasqua. Vediamo. 154 nuovi cristiani, giunti al battesimo nella piena consapevolezza di un cammino di fede, iniziato magari da adulti e molto lontano. Sono i catecumeni che nella prossima Pasqua, 12 di loro in Duomo durante la veglia dalle mani dell'arcivesco, riceveranno appunto il battesimo. Provenienti da tutte le zone pastorali della Diocesi, un terzo dalla città di Milano, i catecumeni 2009, quasi tutti tra i 20 e i 30 anni, molti di loro stranieri, si sono ritrovati nella Basilica di Sant'Ambrogio per la tradizionale celebrazione della liturgia della parola e il rito della loro elezione, presieduto dal Cardinale. Con le domande ai padrini e alle madrine che li stanno accompagnando nell'itinerario cristiano, con la presentazione e l'interrogazione dei candidati stessi, e poi la loro elezione, che avviene significativamente nella prima domenica di Quaresima, a sottolineare il cammino ultimo e intenso, che attraverso i cosiddetti scrutini battesimali, tappe di preparazione per così dire, fin dai tempi di Ambrogio, porta i catecumeni ai sacramenti. Carissimi catecumeni, io auguro a tutti, a ciascuno di voi, proprio perché il Signore vi ha incontrato e vorrà continuare a incontrarvi, ecco grazie a questo incontro, nonostante le fatiche, le difficoltà, le prove che noi incontriamo nella vita, il nostro cuore sia veramente ricolmato della sua gioia. Momento per alcuni di commozione, per tutti, anche idealmente dell'intera Chiesa Ambrosiana, che li circonda con il suo affetto, di gioia. In tempi in cui la fede sta sempre più diventando un affare privato, quasi da vivere in silenzio, e in tempi in cui le varie comunità cristiane faticano a coinvolgere nelle loro iniziative soprattutto gli adulti e purtroppo anche i giovani, la decisione di intraprendere, come abbiamo visto nel servizio da adulti, il cammino di preparazione al battesimo, rappresenta una bella provocazione. Ed ecco allora perché ci è sembrato interessante raccogliere alcune testimonianze tra i catecumeni. Vediamo. Tanti tuoi coetanei, anzi, rifuggono un po' da una via di fede. Tu perché hai fatto la strada, magari che pare molto in controcorrente? Perché io abito davanti a un oratorio, ho sempre vissuto lì, e ho deciso che era il momento di metterne lo su bianco questa cosa, questo mio credo. Lei è il padrino di questo ragazzo, cosa vuol dire accompagnare da adulto in un cammino così bello? Vuol dire in principal modo crescere tanto personalmente, perché innanzitutto è un modo, la possibilità di rivivere in prima persona tutte le cose che in questi quasi due anni abbiamo cercato di rivedere insieme, dalla conoscenza di Gesù alla conoscenza della fede in maniera più grande. Quindi in prima cosa è stato un cammino importante per me, poi spero di essere riuscito a passare anche qualcosa a Daniele. Quello che mi è piaciuto molto è anche l'idea di poter essere debole e di appunto poter chiedere veramente anche l'aiuto in dei momenti difficili e poter accettare l'aiuto in dei momenti dove invece uno si avrà chieduto di poter essere forte e farcela da sola e invece poter dire non ce la faccio a un certo punto, ho veramente bisogno dell'amore che sento dentro, che è l'amore di Dio. Beh, parole sicuramente su cui riflettere per tutti, anche coloro che sono battezzati ormai da decenni. E' celebrazione tipica della Quaresima e per il rito ambrosiano è la Via Crucis. L'arcivescovo, come vuole ormai una tradizione che dura da alcuni anni, ne celebrerà una per ogni zona pastorale. Vediamo. Saranno la parola e l'avventura cristiana dell'Apostolo delle Genti, San Paolo, a guidare nel cuore di questo anno 2009 a lui dedicato le meditazioni delle tradizionali Via Crucis, previsti in ciascuna delle sette zone pastorali della Diocesi. A presiedere le celebrazioni, sempre il cardinale Tettamanzi. Introdotta volta per volta dal vicario della zona in cui si svolge, la Via Crucis Diocesana, dal titolo con Paolo sulla Via della Croce, fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo, avrà così il senso di un'occasione preziosa e forte per contemplare la passione di Cristo nella preghiera comune, attraverso il silenzio e la riflessione intima e condivisa. Particolarmente utile, come sempre, il sussidio pubblicato in un'edizione fuori commercio che riporta i brani delle lettere di Paolo, le tracce delle meditazioni, i canti e le preghiere. Da notare che quest'anno il libretto si arricchisce di una bella serie di illustrazioni realizzate e donate per l'occasione dal maestro Renato Galbusera, allievo di Floriano Bodini, che nelle sue tavole, in un allusivo e suggestivo chiaroscuro e in quella a colori di copertina, attualizza il messaggio paolino di fraternità e di pace. Un invito a vedere nelle tante croci del nostro tempo la via della speranza che salva. L'appuntamento sempre a partire dalle ore 20.45 per la prima delle vie Crucis in zona terza, a Oggiono venerdì 6 marzo, poi a seguire le altre zone. A Milano la celebrazione si terrà al quartiere Cutiotto, parrocchia Santa Maria Nascente, mercoledì 1 aprile. L'ultima via Crucis il 3 aprile a Cinisello Balsamo per la zona settima. Oltre le vie Crucis tante iniziative caratterizzano la Quaresima della Diocese di Milano, ne vediamo assieme alcune. Ad esempio venerdì 6 marzo alle 21 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il Vangelo della Grazia di Cristo, solo la grazia. Una meditazione con Monsignor Giovanni Marcandalli, già parroco tra l'altro della Basilica di San Marco a Milano. E sempre venerdì, il prossimo 6 marzo alle 21, il Cineteatro Larca di corso 22 marzo 23-15 a Milano, propone un'iniziativa quaresimale con la partecipazione di Monsignor Franco Giulio Brambilla, preside della Facoltà Teologica e Vicario Episcopale per la Cultura. Io spero in te per noi l'incontro imperdibile. Questo è il titolo dell'iniziativa. E visto che l'ha già citato anche Anna Maria Braccini nel servizio, vi dettaglio meglio quello che è l'appuntamento sempre di venerdì 6 di marzo con la via Crucis per la zona pastorale terza, quella di Lecco. L'appuntamento è alle 20.45 a Doogiono, appunto, in provincia di Lecco, come potete apprezzare anche dal cartello. E a proposito di iniziative quaresimali, questa settimana vogliamo approfondire in particolare il fitto programma messo in calendario dal Centro Storico di Milano. Il servizio. Quanto manca della notte? Perché questo interrogativo? Questa espressione biblica dice appunto dell'affanno delle vedette che sono a guardia della città, l'affanno della veglia, l'affanno dell'attesa, il desiderio che venga presto il sole. Penso che sia la condizione in cui oggi vivono le persone, diremmo, in tutto il pianeta. Noi vogliamo sentirci dentro in questa attesa, in questa spasmodica tensione verso l'alba, va bene, per annunciare così con tutte le nostre forze il mistero della salvezza in modo anche, come dire, proponibile. Grandi nomi, infatti, e soprattutto temi affrontati con il linguaggio della modernità. Anche le modalità saranno diverse. Letture attorno al tema di Gesù Crucifisso, di alcuni brani dell'Arcevescovo Giovanni Battista Montini, il tema di, la lettura di alcuni salmi, commentati poi da Monsignor Ravasi, i percorsi artistici in Duomo, l'Alezzo Divina a San Carlo al Corso e altre ancora. Cioè, c'è una miscellanea di iniziative che vorrebbe proprio rispondere alle diverse esigenze. Senza dimenticare il Duomo, nucleo centrale, casa di tutti i milanesi. Abbiamo sentito all'inizio della nostra trasmissione, nella prima parte, dalla voce proprio del Cardinale Civescovo Dionigi Tettamanzi, l'annuncio della beatificazione di Don Carlo Gnocchi che avverrà il prossimo 25 ottobre proprio a Milano, in Duomo. Ebbene, per l'occasione, la Fondazione Don Gnocchi ha annunciato la costruzione di una nuova chiesa in cui verrà collocato il corpo di Don Carlo unitamente anche a un museo a lui dedicato. Alla posa della prima pietra di questa chiesa, settimana scorsa, ha partecipato anche il Cardinal Tettamanzi. E ora torniamo sulla figura di Don Gnocchi presentandovi alcune suggestive immagini. Vediamo. Prima ti dicevo ciao Don Carlo, adesso ciao. Sendo cattedrale, diciamo proprio con parole un po' auliche, ciò che è la realtà che sta a cuore a tutti, cioè il nostro Duomo. San Carlo, allora, 50 anni fa, a salutare così d'ultima volta, fu uno dei suoi mutilatini. Dal 25 ottobre prossimo, data per cui è fissata in Piazza del Duomo la cerimonia di beatificazione dell'indimenticabile fondatore della Pro Juventute, tutti lo chiameranno così. O forse già lo fanno in molti, certamente i tantissimi che non hanno voluto mancare all'indomani dell'annuncio della beatificazione a un momento importante e significativo. La benedizione è la posa della prima pietra presso il centro Santa Maria Nascente della nuova chiesa che sorgerà entro l'ottobre 2010, ospitando con un progetto innovativo anche la tomba di Don Carlo e del museo a lui dedicati. Il cardinale Tettamanzi, il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, il vicepresidente della Camera Lupi, i rappresentanti di comune, provincia e regione, poi gli alpini, gli amici della fondazione Don Carlo Gnocchi, che oggi solo in Italia conta 28 centri diffusi in 9 regioni con il suo presidente Monsignor Angelo Bazzari, ma soprattutto loro, i malati, con i disegni e le parole. Tutti hanno onorato la memoria di quest'uomo, capace di chinarsi sulle ferite del dolore più innocente. Ma per sua natura il bene ha un orizzonte mondiale, quindi da questo punto di vista l'insegnamento non è soltanto per la chiesa ambrosiana, ma per tutta la chiesa, anzi, per l'intera società. Un sogno di carità coniugato a un senso di concretezza a questo sito tambrosiano e anche a un'idea modernissima di quella che si potrebbe definire la sussidiarietà tra pubblico e privato. Noi continuiamo oggi a dare il nostro contributo dentro nel paese, nella vita delle famiglie e a sostegno anche dei più fragili. In vista della tradizionale marcia delle scuole cattoliche, l'Andem al Dom, che è prevista per l'ultimo sabato di marzo, lunedì prossimo, presso l'Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Largo Gemelli 1 a Milano, è previsto il convegno intitolato Il gusto di imparare, l'avventura di educare. Al convegno parteciperanno l'On. Valentina Aprea, in rappresentanza del Governo, e Monsignor Diego Coletti, Vescovo di Como, e tra l'altro responsabile per la Conferenza Episcopale Italiana proprio della pastorale scolastica. Continua, anzi entra nel vivo, il Sinodo del Clero Milanese, con in questa quaresima gli incontri sul territorio in ascolto proprio dei preti ambrosiani. Siamo andati a curiosare in uno di questi incontri. Vediamo. Come maturare uno sguardo più ampio sulla realtà della Chiesa di oggi guardando al domani? Attraverso quali linee di spiritualità ministeriale? E poi ancora lo stile evangelico come forma di comunione, condivisione, corresponsabilità sacerdotale. Questioni aperte, complesse, che chiedono ora più che mai al clero il coraggio di confrontarsi, di discutere e di dialogare, come corpo ecclesiale sotto la guida del Vescovo, ma anche di interpretare il proprio vissuto di preti, facendone materia di crescita comune. E' in questa logica che prosegue il cammino dell'Assemblea Sinodale del Clero, giunto al suo terzo momento con gli incontri per anni di ordinazione. A me è piaciuto molto la franchezza degli interventi, quindi precisi, preparati, franchi. Non ci siamo nascosti dietro a giri di parole. Siamo riusciti a dire con serenità quello che ci sembrava giusto comunicare. E penso che dobbiamo ringraziare anche il Cardinale che ci ha dato questa possibilità. Quello che mi auguro è appunto che questo sia un primo passo, che poi si possa continuare a mantenere questo livello di comunicazione tra di noi, perché ci aiuta a stimarci, a conoscerci anche con il nostro Vescovo. Analisi diverse tra loro, da cui è emersa tuttavia una costante. La necessità dell'ascolto reciproco è da parte dei superiori. Certamente l'impressione di una Chiesa che ascolta, una Chiesa desiderosa di mettersi in dialogo con i propri preti, in particolare in questo caso i preti giovani. Questa Assemblea Sinodale chiede l'ascolto, pare di capire. Questo è un dato forte. Sì, è proprio un dato importante, è un dato che io verifico in particolare con i seminaristi che mi sono affidati in questi anni. Desiderano interloquire molto con noi, desiderano sapere sempre un po' il nostro parere, soprattutto hanno dentro il desiderio di essere sempre confermati nei passi che comunque compiono. Il mitile di quest'oggi sia lo stile più appropriato. Tra i vari interventi dell'Assemblea dei Preti si è deciso di ospitare anche la voce di chi ha scelto di svolgere il suo ministero lontano dalla diocese di Milano, pur essendo un prete ambrosiano. E' il caso dei preti Fidei Donum. Alcuni di questi sono Huacho in Peru e la loro voce è giunta ai confratelli tramite un messaggio filmato che verrà proposto in tutte le assemblee sul territorio. Ne vediamo una sintesi. La Chiesa Sudamericana da decenni ha praticato l'ascolto della realtà per comprenderne i cambiamenti e i segni dello spirito. Riconoscere esplicitamente questa ricchezza metodologica sarebbe un bel gesto di accoglienza dell'esperienza delle altre chiesi con le quali la diocese in Milano sta collaborando da anni. I grandi cambi di rinnovamento nella vita diocesana di questi anni hanno toccato concretamente non solo la funzione del prete ma anche la sua vita personale. C'è chi ha sofferto ristrutturazioni pastorali che sono passate sopra la sua testa. C'è una grande sete di essere ascoltati e presi in considerazione dai superiori. si cerca e si attende una possibilità di ascolto e colloquio personale. Questa è la base per una serenità anche nei momenti delicati dei cambi. È questione di rispetto e di attenzione alla persona ed è un metodo che scioglie in anticipo molti possibili elementi di crisi. La missione ci ricorda che la pastorale non si richiude negli spazi del religioso ma è impulso profondo e perenne a lasciarsi attrarre per Gesù là dove gli uomini amano vivono, soffrono per condividere le loro attese e speranze profonde permettendo che la luce del Vangelo le illumini. I nomi che avete visto in fondo sono i nomi dei 5 peti figli di Ron Worm a Guaccio e tra l'altro sia la registrazione audio sia le immagini sono state realizzate là in Peru in Sud America quindi avete compreso anche la qualità non identica a quella degli altri servizi. Ma spingiamoci ora fino a domenica per ascoltare assieme il brano proposto dalla liturgia e il commento curato da Monsignor Mario Delpini vescovo ausiliare della diocesi di Milano. Il brano cosiddetto della Samaritana vi viene da noi proposto in una forma breve rispetto a quello che potete ascoltare partecipando alla Santa Messa di Domenica. Ascoltiamo comunque assieme. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo. Era circa a mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù dammi da bere. Allora la donna samaritana gli dice come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna signore non hai un secchio e il pozzo è profondo da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame. Gesù le risponde chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente che zampilla per la vita eterna. Signore gli dice la donna dammi quest'acqua perché non abbia più sete e non continua a venire qui ad attingere acqua vedo che tu sei un profeta. La quaresima è un cammino nella speranza la speranza è uno sguardo è un modo di guardare la realtà le persone la storia dei popoli che si fida più delle promesse di Dio che delle statistiche più delle promesse di Dio che della propria esperienza più delle promesse di Dio che dei propri sospetti e così noi possiamo guardarci intorno e riconoscere in tutte le persone che incontriamo un'attesa una speranza un bisogno di un salvatore Gesù ha vissuto questo incontro con la donna samaritana come l'atteggiamento di chi sa che in quella donna non c'è una estranea c'è una possibilità di vita nuova ha saputo interpretare nella donna samaritana non la complicazione di una vita sbagliata ma un desiderio di felicità che aspetta di essere esaudito e così ha saputo interpretare la storia dei popoli non come un destino di contrapposizione e di incomprensione ma piuttosto come una possibilità di intesa lui che era giudeo ha chiesto da bere a una donna samaritana ecco Gesù ha intuito e ha insegnato che nella storia dei popoli nella storia delle persone c'è sempre un'aspettativa di gioia che aspetta la risposta i cristiani dunque sono chiamati a guardarsi intorno con lo stesso sguardo di Gesù a riconoscere in ogni persona la vocazione alla felicità i cristiani si guardano intorno con lo stesso sguardo di Gesù e si sentono responsabili di annunciare il Vangelo la parola che consola e salva due appuntamenti per il prossimo fine settimana prima di chiudere sabato e domenica prossimi 7 e 8 marzo presso la consueta sede di Villa Sacro Cuore a Tregasio di Triugio in provincia di Milano si riunisce per la sua quindicesima sessione il consiglio pastorale diocesano al centro dei lavori ci sarà la discussione proprio sul cammino sinodale dei preti di cui abbiamo abbondantemente parlato anche quest'oggi in la chiesa nella città e l'altro appuntamento è per domenica 8 marzo quando alle ore 16 presso la parrocchia San Vittore in via conciliazione a Missaglia in provincia di Lecco si trarà la celebrazione eucaristica che segna la chiusura della visita pastorale del cardinal Tettamanzi al decanato di Missaglia e prima di salutarci vi segnalo come la chiesa nella città domenica vi proporrà grazie alla curatela di Anna Maria Braccini una sintesi della catechesi quaresimale di martedì scorso e un'ampia rassegna delle risposte e video che il cardinal Tettamanzi offrirà a partire da domani su Youtube a tutti coloro che gli vorranno inviare domande riflessioni e osservazioni all'indirizzo di posta elettronica catechesi chiocciolachiesadimilano.it l'appuntamento con la trasmissione è per domenica alle 13.15 e a proposito di posta elettronica vi segnalo nuovamente l'indirizzo della nostra trasmissione che vedete già in sovrimpressione ovvero la chiesa chiocciolatelenova.it con questo è davvero tutto vi saluto vi ringrazio di averci seguito vi auguro buon proseguimento con Telenova grazie a tutti